Allontanandosi dal centro storico si raggiunge lo stupendo parco comunale di recente ristrutturazione denominato I Giardini del Sole. Il nome è molto suggestivo e ben rispecchia la bellezza della natura che in questo piccolo angolo di paradiso prolifera grazie alla tentazione umana che ha saputo sapientemente valorizzarlo. Oggi I Giardini del Sole sono un punto di riferimento per Racale realizzato per offrire ai suoi concittadini uno spazio pubblico dove poter passare il tempo libero e socializzare in un piccolo angolo completamente immerso nella natura tra piante e fiori della macchia mediterranea.